Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube una buona serata a tutti voi un buon venerdì allora siamo nel nostro appuntamento insieme con l'analisi estrazione di appunto venerdì 3 maggio e andiamo a vedere quello che è successo allora i miei metodi mensili partono alla grandissima anche in questo mese di maggio vi ho detto che il diaro del mister è potentissimo e cosa vi ho regalato cari amici da ambata perpetua cosa vi ho regalato ambosecco unico 30 90 firenze nazionale e tutte a tutte le ruote al primo colpo questa è una vincita di tutto rispetto e di grande rilievo 90 30 tutte le ruote al primo colpo di gioco quest'ambosecco giocato bene a colpo ha pagato molto bene non so quanti abbiano avuto fiducia nel giocarlo considerando che il mese di aprile il 21 90 che avevo regalato ha dato due vincite poi ha pagato lambata zig zag bari roma 38 a bari prima posizione guardate come i miei metodi vanno alla grandissima poi ha pagato ambata fatata con l'undici sulla ruota di bari e poi ha pagato ambata meraviglia 19 sulla ruota di bari quindi notate come il diaro del mister è partito molto molto bene mi raccomando chi volesse le versioni complete dei miei metodi lotto mensili può contattarmi via whatsapp 348 75 47 715 per avere o il singolo metodo oppure il pacchetto di questi metodi del diario queste sono chiaramente le previsioni parziali nei metodi completi avete le previsioni complete quindi con ruote fisse ambiterni e così via paga questa sera il nuovo metodo lotto la data super con l'81 sulla ruota di bari l'abbiamo calcolata sabato è appagato sulla ruota di bari i metodi lotto la data sono micidiali la data la data super e la data plus giocano nelle versioni complete un solo abbinamento ambe ambetto su bari cagliari nella modalità vincita venuta quindi con pagamento alla vincita o di ambo o di ambetto vi consiglio caldamente di prendere queste previsioni perché andremo a stravincere stessa cosa per quanto riguarda idea vincente questa sera sfioriamo l'ambo secco a bari per un punto avevamo 8 18 bari cagliari genova uscito 8 19 purtroppo ma è un metodo che rimane molto valido è un metodo che nemici ha fatto vincere tanto e parliamo di un solo ambo su tre ruote idea vincente e si paga alla vincita solo di ambo a ruota vi ricordo i miei due metodi mensili il 90 segreto questo mese porta a cagliari palermo le ruote migliori con un solo ambo secco in gioco anche qui pagamento la vincita e ambo sotto controllo due ambi su due ruote bari cagliari sempre pagamento la vincita con un capo gioco 63 bari cagliari terza e quinta posizione vi voglio ricordare che avevo regalato da questa condizione del 27 aprile avevamo 58 38 ambo di cadenza su cagliari e 60 62 vi ho dato il 32 e il 6 il 6 in quarta e quinta 32 prima e seconda è uscito il 6 sulla ruota di cagliari quinta posizione in pochissimi colpi mi raccomando a continuare palermo roma lambo secco e ambetto 14 42 con entrambe le ambate in quarta e quinta posizione palermo roma mi raccomando a tenere bene a mente i miei consigli di gioco e torno a ribadire quello che il 90 della ruota di cagliari col mio metodo spia 66 napoli che porta un 90 ruota unica cagliari con i 5 ambi unica ruota di gioco con impegno di giocata da parte vostra e pagamento alla vincita è un metodo che rimane sempre vostro questa sera è uscito il 6 grande senatore e alla figura 9 27 in terza cagliari con bari sono due ottime ruote abbiamo la figura 9 anche su bari l'81 con la cadenza 9 19 e quindi attenzione perché guardate c'è figura 9 cadenza 9 bari figura 9 cadenza 9 cagliari 27 69 19 81 quindi molta attenzione perché la ruota di cagliari va preso questo 90 chi non l'ha preso mi contatti via whatsapp il numero lo sapete a memoria lo trovate sempre in descrizione il 90 che si ripete a roma e questa è la teoria lo studio è quello che io sempre vi dico che il 90 va in ripetizione quando esce sulle stesse ruote ma roma la scorsa estrazione quando era uscito questo 90 cosa portava portava l'85 che un ottimo segnalatore per esempio e portava lambo di cadenza 79 49 quindi come vedete le mie segnalazioni sulle ruote non vanno a sbagliare questa sera doppio 84 addirittura dice sia al 90 sia firenze sia roma quindi su queste due ruote si ripete o roma o firenze ok tra l'altro roma porta lambo di cadenza 0 30 90 figura 9 72 genova porta il 48 che un ottimo segnalatore torino la cadenza 6 in terza anche questo è interessante anche la coppia milano venezia ottima l'81 figura 9 in terza l'85 segnalatore figura 9 63 sulla ruota di milano attenzione a quella somma 90 cagliari firenze isotopa 6 84 bellissima che conferma queste due ruote ne vedremo delle belle cari amici arrivano dei 90 esplosivi l'84 dicessi al 90 napoli quindi bari napoli arriva dappertutto preparatevi al mese di maggio arriva dappertutto il 90 arriva alla grandissima distanza 2 12 10 napoli 29 cadenza 9 in terza con palermo la cadenza 9 29 69 guardate il triangolo cadenza 9 napoli palermo 29 69 79 palermo il distanza 10 69 79 bellissimo poi la nazionale anche 72 figura 9 9 in prima e guardate la somma 90 in isotopia bari nazionale 882 quindi anche questo quad estrazione porta bellissimi segnalatori quindi state molto attenti perché è un quad estrazione molto importante guardate che triangolo cadenza 0 palermo roma 50 90 30 e l'altro triangolo cadenza 9 napoli palermo 29 69 79 poi vediamo ancora un po quindi cagliari insisto con la spia perché molto forte questa somma 90 con firenze e anche micidiale e anche molto bella e la somma 90 l'abbiamo vista anche andiamo indietro con bari 3 e 87 30 aprile quindi attenzione perché vari cagliari firenze sono tre ruote che mi piacciono molto per questo 90 chi vuole restringere ruota di cagliari ruota unica quarta e quinta posizione il 5 di firenze lo annuncia anche il 60 lo annuncia anche avete visto firenze cosa abbiamo combinato nel mese di aprile con la spia 72 abbiamo vinto 4 90 di seguito e queste cose io le avevo annunciate su roma guardate la ripetizione come diverse condizioni poi vanno a sfociare in diversi 90 perché quando ci sono diversi segnalatori che si susseguono in diverse estrazioni poi il 90 non esce solo una volta deve uscire più di una volta ok io di queste cose non mi stupisco perché di queste ripetizioni io non mi stupisco sono ripetizioni studiate quindi mi raccomando a seguirmi con attenzione sul 90 direi che abbiamo finito qui queste sono le situazioni più eclatanti c'è un appuntamento a domani estrazione ultima della settimana 4 di maggio vedremo quello che andrà a capitare dell'ultima estrazione della settimana e quindi mi raccomando benissimo alla spia sulla ruota di Cagliari i metodi la data sono da giocare assolutamente idea vincente da giocare assolutamente attenzione al 90 segreto questo mese perché Cagliari Palermo sono due ruote di fuoco per adesso saluto a tutti i mister che spiega